La Procura della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Palermo ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 34 persone, alcune di loro arrestate, altre a piede libero. Sono tutti soggetti coinvolti nelle due operazioni denominate Icaro, quelle eseguite dalla squadra mobile di Grigento e che hanno decapitato le presunte famiglie mafiose grigentine da Santa Margherita a Favara, da Ribera a Porto Empedocle e da Cattolica a Eraclea da Grigento. Il prossimo passaggio nei loro confronti sarà la richiesta di rinvio a giudizio. Tra le ipotesi di reato contestate a vario titolo ci sono quelle di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, riciclaggio, danneggiamenti, detenzione legale di armi, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapine e tentato omicidio. Gli indagati sono Antonino Abbate di Montevago, Tommaso Baroncelli di Santa Margherita, Domenico Bavetta di Montevago, Carmelo Bruno di Motta Santa Anastasia a Catania, Vito Campisi di Cattolica a Eraclea, Giovanni Campo di Santa Margherita a Berice, Pietro Campo di Santa Margherita a Berice, questi ritenuto il presunto boss di questa zona, Francesco Capizzi, inteso il milanese, di Porto Empedocle, Mauro Capizzi di Ribera, Roberto Carobene di Motta Santa Anastasia, Gioacchino Cimino di Porto Empedocle, Domenico Cucina di Lampedusa, Rocco D'Aloisio di Sambuca di Sicilia, Diego Grassadonia di Cianciana, Antonino Grimaldi di Cattolica Eraclea, Piero Guzzardo di Santa Margherita di Berice, Antonino Iacono di Giardina Gallotti, frazione di Egrigento, Gioacchino Iacono di Real Monte, Santo Interrante di Santa Margherita, così come di Santa Margherita anche Giacomo Lasala, Giuseppe Lopilato di Giardina Gallotti, i montallegresi Leonardo Stefano, Vincenzo Marrella di 41 anni e Vincenzo Marrella di 60 anni, ancora Francesco Messina di Porto Empedocle, Francesco Pavia anche lui di Porto Empedocle, Giuseppe Picillo di Favara, Emanuele Riggio di Monreale, Pasquale Schembri di Montallegro, Gaspare Nilo Secolo Novo di Santa Margherita Berice, Francesco Tarantino e Inteso Paolo di Porto Empedocle, Ciro Tornatore di Cianciana e Francesco Tortorici di Montallegro.